Giuliana Esposito, dopo il Consiglio Comunale monotematico sul PNRR, le associazioni di categoria hanno scritto all'amministrazione comunale per chiedere che venga istituita una cabina di regia. Si è stata una richiesta corale molto partecipata che si è concretizzata ieri con l'invio di una pecca al sindaco, al presidente del Consiglio e al segretario comunale a firma delle associazioni di categoria locale, quindi ASCOM, Confesercenti, Associazione Sviluppare a Porto, CIA, Confimprese e Federalberghi per chiedere che si costituisca una cabina di regia per fare in modo di intercettare fondi del PNRR o comunque sviluppare delle progettualità che abbiano delle ricadute sul nostro ecosistema economico. Quindi chi farà parte di questa cabina di regia? Tecnici con competenze specifiche? Sì esatto, la cabina di regia dovrebbe essere innanzitutto politica perché deve chiaramente costruire una visione, una strategia e seguire un orientamento politico ma noi chiediamo che ci siano anche dei professionisti e dei tecnici esperti e chiaramente noi ci poniamo come interlocutori, come stecca, come associazioni di categoria insieme, espressione di bisogni dell'ecosistema economico affinché si possa interloquire e costruire delle progettualità condivise. Carlo Esposito, tra le associazioni che hanno condiviso questa idea della cabina di regia anche l'associazione Sviluppo aria a porto che lei rappresenta? Sì, noi siamo intervenuti nel Consiglio Comunale monotematico a proposito di progettualità e quindi partecipare a questa iniziativa era doveroso anche perché riteniamo che Torre del Greco ha bisogno di progettualità perché chiaramente senza progetti concreti anche se di massima non si possono avere né finanziamenti né possono arrivare finanziamenti. Quindi la cabina di regia secondo me è qualcosa di molto importante in questa fase perché fortunatamente si sta ritardando col PNRR per quanto riguarda i finanziamenti quindi abbiamo tutto il tempo di presentare progetti per Torre del Greco. Ovviamente quando parliamo di progettualità di Torre del Greco parliamo a 360 gradi quindi centro storico, periferie, porto perché anche il porto comunque può essere ulteriormente finanziato per altre cose quindi tutto quello che è possibile e quindi anche l'idea di far venire tecnici importanti che abbiano un certo spessore preparati che siano di Torre del Greco quindi hanno anche la visione di Torre del Greco a 360 gradi possono esprimere come dire delle progettualità per rivedere e cambiare volto nella nostra città. Del resto soldi a pioggia che potrebbero arrivare diventano quasi inutili se non ci sono delle progettualità serie e concrete alle spalle. Se non si presentano progetti strutturati bene e chiaramente possono anche essere bocciati perché se uno presenta il progetto non significa che è finanziato quindi bisogna essere in grado di presentare progetti ecco perché i professionisti quindi commercialisti, ingegneri, architetti, avvocati, insomma tutti quelli che daranno il contributo per sviluppare questi progetti perché non possiamo sbagliare, non possiamo perdere questa opportunità. Ecco questa non può risultare l'ennesima opportunità persa per questo territorio. Infatti questa è l'idea, chiaramente non è che ci vogliamo sostituirsi all'amministrazione, è un suggerimento che stiamo dando all'amministrazione affinché colga questa opportunità e questo suggerimento per concretizzare il tutto.